Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presono Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento settimanale che ci terrà compagnia per tutta l'estate. Attivate subito quindi la campanella qui in basso per non perdere nessuna delle prossime puntate di domande e risposte su Studio One. In questo appuntamento troveremo 5 risposte alle domande più frequenti che mi arrivano attraverso i social, in particolar modo dal nostro gruppo Facebook ufficiale Studio One Pro Italy dove vi invito ad iscrivervi e dove spesso appunto troveremo le domande poste dagli utenti vecchi e nuovi. Molte delle domande provengono da coloro che approdano a Studio One da altre DO come ad esempio Logic, Cubase e Pro Tools e che faticano a ritrovare il proprio workflow. Vedremo insieme come risolvere questi problemi e come affrontarli una volta per tutte. È necessaria però una premessa. Molti dei problemi spesso dipendono da una non conoscenza del sistema informatico che si sta utilizzando. Non si sa ad esempio quanto potente debba essere o quale sistema operativo supporta dei driver delle periferiche o Studio One stesso. O a volte mancano proprio le basi di informatica che nella maggior parte dei casi risolvono a monte dei problemi che si riscontrano lungo la via. Do quindi per scontato che tutti sappiano cosa sia un computer, cosa sia la RAM, cosa sia l'hard disk e i vari tipi di bus, PCI, USB, Firewire, Thunderbolt, come spegnere le funzioni non essenziali del proprio sistema operativo, come gestire le installazioni su un sistema dedicato all'audio recording. Nel canale trovate un video su come ottimizzare Windows per l'audio recording. Do per scontato inoltre che non vi siano installati antivirus, firewall, plug-in e applicazioni craccate che come abbiamo visto già in un altro video tendono ad installare software nascosti che rallentano il sistema operativo facendogli fare altro. Visto che sia Studio One sia i plug-in di terze parti gratuiti riescono a sopperire ad ogni esigenza che possa presentarsi nel 2022, è fondamentale saper gestire la macchina che stiamo guidando. E proprio come un'automobile non è fondamentale saper fare il meccanico ma imparare il manuale e conoscere le spie e le funzioni importanti del mezzo per prevenire ogni tipo di problema. Il computer, anche se strumento potentissimo ed efficiente, funziona bene nelle mani giuste. Dopo sei anni di gruppo Facebook Studio One Pro Italy posso affermare sinceramente e scientemente che il 99% dei problemi riscontrati dipendono dall'utente e non da Studio One. E questo mi rende felice perché vuol dire che l'applicativo che gestiamo durante le fasi di beta testing supera il nostro stress test molto bene. Manca sempre più spesso la lettura dei manuali sia della Doh sia dei plug-in che vengono utilizzati o la ricerca e la visione dei tutorial già presenti qui sul mio canale come su quello di altri utilizzatori di Studio One anche se in inglese. Tante volte basta Google è una ricerca semplice per argomento. In ultima analisi spesso manca la preparazione necessaria ad affrontare l'audio recording in maniera corretta. Preparazione che comprende la conoscenza della lingua inglese delle parole utilizzate nel nostro campo specifico perché spesso anzi molto spesso non esiste una traduzione in italiano corretta dei principi o delle applicazioni tecniche di diverse funzioni. Ricordiamoci che la tecnologia si muove su quella lingua oltre ad essere tra le più parlate al mondo anche nei paesi non anglofoni. Di conseguenza non si trova utile spesso localizzare il software o il manuale. Un applauso va comunque fatto a MidiMusic per aver tradotto Studio One in italiano quindi per averlo localizzato gratis e spesso ce ne dimentichiamo. Il manuale operativo invece è stato scritto e stampato da Curci grazie a Beppe Bornaghi ed è possibile acquistarlo su Amazon o su altre piattaforme di distribuzione. Una preparazione quella del recording audio che dovrebbe comprendere anche quelle nozioni basic di fisica acustica. Non è necessario conoscere le formule matematiche ma almeno i sistemi di misurazione, la conoscenza della percezione del suono e nei casi spesso più gravi assenza di attrezzature secondarie come ascolti, schede adeguate, schede audio adeguate o sistemi di ripresa microfonica. Con pazienza e dedizione faccio i complimenti ai ragazzi che frequentano i miei gruppi Facebook e che in uno spirito di mutuo soccorso danno una mano ai meno intraprendenti. Li ringrazio perché era proprio quello che sognavo di vedere in un gruppo di assistenza su Studio One. Quando uso librerie su un hard disk esterno Studio One si rallenta? Tecnicamente no se utilizziamo un hard disk esterno SSD su un protocollo molto veloce. Ad esempio io sto utilizzando un SSD esterno M2 su protocollo Thunderbolt. Quindi il mio hard disk è collegato Thunderbolt al mio Macintosh. In questo modo non ho assolutamente alcun tipo di ritardo nell'accesso all'hard disk esterno. Ma se l'hard disk è per esempio un hard disk meccanico e magari l'hard disk è installato su un box esterno che è USB 2 o USB 3, ovviamente il rallentamento è molto più evidente. Questo perché Studio One richiede risorse al sistema operativo per poter accedere direttamente all'hard disk mentre sta lavorando e chiaramente tutto rallenta il processing in generale. Come faccio a gestire e a vedere i miei VST all'interno di Studio One? Allora per guardarli, per vederli, quelli che vengono rilevati, basta andare su Browse, Instruments, vedremo tutti gli Instruments e effetti, vedremo tutti gli effetti, ma se abbiamo bisogno di gestirli andremo direttamente sotto View e sotto Plugin Manager. In questo modo possiamo gestire l'attivazione o la disattivazione dei plugin, controllare la release, controllare appunto se è tutto stato aggiornato e quando sono stati modificati ed eventualmente scegliere di resettare il block list che appunto possa aver avuto un plugin di nel momento in cui viene caricato all'interno di Studio One. Questo accade perché magari il plugin non è completamente a 64 bit e viene escluso dal processing di Studio One. È possibile inserire un effetto in una regione o un clip specifico soltanto? Certo, all'interno di Studio One è possibile selezionare una clip audio, magari tagliandola, ed applicare un singolo effetto soltanto a questa piccolissima regione. Per fare questo scendiamo qui sotto dall'inspector, come vediamo, e selezioniamo Event FX. Ovviamente aprendolo ci dà la possibilità di inserire dei plugin VST anche di terze parti e questa è la comodità pazzesca. Ad esempio inseriamo in questo caso un EQ e ovviamente possiamo modificarlo e far sì che questo EQ agisca soltanto ed unicamente in questa piccola clip. Questo può essere un sistema molto utile per poter correggere soltanto una parte oppure per poter inserire un piccolissimo effetto soltanto in alcune parole, magari del cantato. È un trucco che uso tantissimo. Una volta fatto questo possiamo schiacciare render e verrà renderizzata la piccola porzione alleggerendo ovviamente il processore del calcolo anche di questo piccolo plugin. Come può succedere che magari una traccia importata all'interno di Studio One vada più veloce o più lenta quando viene importata? Ogni volta che importiamo una traccia all'interno dobbiamo fare attenzione che la traccia stessa sia agganciata al time stretch se deve seguire il metronomo impostato qui sotto. In alternativa portarla su Don't follow farà sì che la traccia rimanga al tempo originale senza essere influenzata dalla tempo map. Come faccio a creare un rallentando sulla traccia midi? La traccia midi ovviamente segue la tempo map quindi qualora volessimo creare un rallentando all'interno della traccia midi controlliamo sempre che la traccia midi si trovi nella posizione di bit time base e che sia ovviamente in questo caso agganciata alla tempo map. Rallentando la tempo map rallenteremo la traccia midi facciamo attenzione che la libreria che stiamo utilizzando con la traccia midi supporti la possibilità di essere rallentata altrimenti potremmo avvertire dei fastidiosi effetti oppure dei drop all'interno del risultante audio della traccia midi. Nel caso fosse ovviamente un sintetizzatore questo è meno evidente. Grazie ancora per avermi seguito vi aspetto la settimana prossima per altri trucchi e consigli sull'uso di Studio One. Vi ricordo ancora di attivare la campanella qui in basso di seguire anche le nuove rubriche di audio basic che sto pubblicando in questi mesi e vi ricordo che saranno presto disponibili i miei corsi intensivi di ascolto critico mix e mastering. Li troverete sempre sulla mia piattaforma www.proaudiolearning.com Mentre la raccolta completa di tutti questi video è già presente all'interno dei corsi di Studio One Prime Artist e Pro. Fruibile quindi a chi ha già acquistato il corso oltre ad altri video supplementari che arriveranno in questi mesi sempre in forma gratuita. Per il momento è tutto ciao a presto. Spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto ciao a presto.